Le ultime elezioni regionali hanno posto all'attenzione del dibattito pubblico la volontà a più voci di allestire i seggi elettorali fuori dalle scuole. Le tempistiche ridotte abbinate alla difficoltà organizzativa posta in essere dal coronavirus hanno impedito però la possibilità di trovare spazi alternativi per il voto per quest'ultima tornata elettorale. La problematica è stata sollevata non solo da regione e denti locali, ma anche dai genitori degli studenti. indignati per l'interruzione della didattica dopo una sola settimana della ripresa della scuola e per l'affollamento che gli spazi scolastici si sono trovati a vivere nello scenario attuale in cui il Covid-19 fa ancora paura. A Pesaro sono stati diversi genitori che hanno dato vita ad un gruppo su Facebook chiamato Noi Seggi nelle Scuole, che ad oggi conta circa 2000 iscritti in tutta la provincia, per chiedere che si intensifichi la ricerca di spazi alternativi e che questi diventino attivi già per i prossimi appuntamenti elettorali. È nato il gruppo Noi Seggi nelle Scuole da pochissimo tempo, neanche un mese, è nato proprio perché non eravamo d'accordo, soprattutto in questo periodo di emergenza Covid, che venissero usate le scuole come seggi elettorali. Si parla tanto di igienizzare la scuola, le scuole hanno dovuto prepararsi, igienizzare, cambiare l'ingresso, gli orari, tutto. E poi invece per una necessità nazionale comunque delle elezioni, che comunque sono importanti, sì, però non si è potuto trovare un altro luogo, questo ci è dispiaciuto tanto perché comunque avevamo un po' anche il dubbio poi della sanificazione successiva e comunque anche il fatto di dover, dopo una settimana dall'inizio della scuola, dover sospendere la scuola non è stata una cosa proprio bella, diciamo. Siamo quasi 2000 e sta crescendo il gruppo, infatti non ce l'aspettavamo tutta questa partecipazione, siamo molto contenti. A Pesaro abbiamo 94 seggi in interferenza con le scuole e in questi due mesi, da luglio a settembre le elezioni, non c'era materialmente il tempo di spostarlo, anche perché bisogna trovare spazi diversi, bisogna presentare un progetto alla prefettura, perché quindi non è solo una competenza comunale e da lì poi bisogna fare tutta la serie di lavori, interventi per rendere a norma gli ambienti sostitutivi. Ci siamo visti ieri ad un incontro, un confronto con i cittadini, perché poi è quello che a noi interessa, continuare ad avere rapporto con chi ci crede e vuole lavorare per la comunità. eravamo presenti il Presidente della Commissione Nuova, Petretti, che è quello che adesso seguirà nel dettaglio la questione e poi c'era anche il Presidente delle politiche educative, Thomas Nobili. Il prossimo atto è questo, martedì ci vediamo con la Commissione Congiunta Lavori Pubblici e Servizi Demografici, che è quella che nel merito entrerà nella questione. presenteremo un documento che speriamo condiviso con tutti i membri della Commissione, in cui anche oltre alla Giunta, che già si è resa disponibile per questo tipo di intervento, anche i consigli comunali si impegnano a seguire questa procedura, perché riteniamo di dover prepararci per essere pronti per la prossima tornata elettorale.